E saluti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro Jurassic 4 Channel 10 E oggi siamo qua nuovamente su World You Rather Ma prima di iniziare volevo farvi, volevo dirvi una cosa Cioè che mi è arrivata una fanart, quindi la fanart è questa E' stata fatta sempre da Alice, la prima che mi ha dato una fanart Non lo so se non andate a vedere sempre il video di World You Rather, penso Sì, penso che sia stato il video di World You Rather, andate a vederlo Quindi la ringrazio tantissimo e oggi vi volevo dire una cosa Questo video è un po' diverso dal solito perché è anche lo speciale 64 iscritti Vi starete chiedendo perché 64 e non 50 64 perché 64 è il numero massimo di oggetti che si possono ottenere In uno slot dell'inventare di Minecraft Perché a me Minecraft piace, quindi ho deciso di fare lo speciale uno stack di iscritti Mamma mia E quindi oggi con me ci sarà un'altra persona Che è qua dietro Che adesso, dopo vedrete, esatto, dopo vedrete E qua praticamente mia sorella voleva fare un video con me E allora lo facciamo insieme ovviamente Mamma mia Quindi adesso iniziamo Allora la prima domanda ci dice Se clicchi il blu rimarrai te stesso senza che succeda nulla Quindi il nulla praticamente E se invece clicchiamo in rosso avremo 100 milioni di dollari Ma avremo il 5% di possibilità quando li riceviamo di morire istantaneamente Quindi ora passo la parola a mia sorella Ciao Allora io sceglierei di rimanere normale perché potrei morire Però 100 milioni di dollari sono tanti Però potrei morire quindi sceglierei di stare come adesso E che bello la minore parte con me Wow Questa domanda la facciamo a Jurassic 410 Allora sceglieresti di usare un Mac o di usare un Windows PC? Allora io essendo che anche in questo momento sto usando un Windows Perché Perché Windows è Windows Cioè in realtà non lo so perché Ma sinceramente tra Mac e Windows Io preferisco Windows perché Mac non mi ispira così tanto Sinceramente Non lo so perché avere tutte Non le icone sul desktop A me da fastidio Io sono uno di quelli che mette tutto sul desktop Deve avere qualsiasi cosa sul desktop che lo ricopre di roba Quindi preferisco un Windows ovviamente E ma la maggior parte delle persone è d'accordo con noi Mamma mia Vabbè era anche ovvio perché il Mac costa leggermente di più rispetto al Windows Ma andiamo alla prossima domanda Allora Questa domanda ci chiede Se scegliamo blu ci dice Mangia una crostata E invece se scegliamo il rosso Dobbiamo mangiare dell'uva Questa è una domanda molto difficile secondo me Allora io sceglierei la torta perché Sono golosa di dolci quindi L'uva è buona però Più buona la torta La crostata La maggior parte è con noi Per mangiare maccherone al formaggio Sceglieresti di usare un cucchiaio O una forchetta Allora delle persone normali Mangerebbero con la forchetta Ma noi essendo molto trasgressivi Useremo un cucchiaio Allora pensate Se usiamo un cucchiaio Possiamo fare così Mangiare tutto così Invece se usiamo una forchetta Dobbiamo fare Anche se in realtà io a mangiare Tipo metto 56 Pezzi di pasta sulla forchetta Quindi non c'è troppa differenza Però sinceramente mangiare Dei maccheroni Con il cucchiaio Non mi sembra una cosa così facile Perché poi i raccogliti cadono tutti per terra Ed è un casino raccogliere di nuovo Quindi probabilmente Vi ci darei una bellissima forchetta Allora Preferiresti essere un falco O uno squalo? Allora il falco È un animale bello Perché puoi volare Puoi guardare tutti Puoi spiare Invece lo squalo È diversamente un bello Puoi andare in acqua Respire sott'acqua Quindi Mi piace di più lo squalo Il cavolare Puoi farlo anche con Con il Plano La Planaggio Quindi Scegliere di essere squalo Allora Sceglieresti Di guardare Le cose Passate Oppure Di guardare Le cose future Allora Come io ho sempre detto Amo il futuro La tecnologia La scienza Quindi Questa è una domanda Proprio scontata Come non so cosa Ovviamente Scelgo il futuro Perché il passato E passato Fa niente Anche se Se è passato Lo rivedo Ormai la scelta È fatta Non è Se invece è il futuro Posso vedere quello che farò Quello che succederà Quindi magari Potrei prevedere la mia morte Non so Ammetti che Dovrei morire contro un treno Io posso spostarmi Prima che arrivi il treno E Non morirei Quindi Secondo me Il futuro È una scelta Molto geniale Però A quanto pare Nessuno è d'accordo con noi Chissà perché Cioè comunque Il passato È passato Non Puoi cambiare Il passato Allora Preferiresti Sprezzare Precare un giorno Nel deserto del Sahara Oppure Spendere un giorno Al polo nord Quindi vedere Babbo Natale Yeah Andare nel deserto del Sahara Non è tanto bello Perché È solo sabbia Vedi solo sabbia Ci sono dune di sabbia Invece al polo nord Potrebbero esserci Pinguini Gli ursi polari Quindi sceglierei Di andare al polo nord Allora Sceglieresti Di essere Sempre muto Oppure avere Un braccio Amputato Allora Per questa domanda C'è un problema Di fondo Io faccio video su youtube Quindi se sarei muto Non posso parlare Ma se avessi Un braccio Amputato Non posso giocare Quindi non posso fare video Automaticamente Quindi è un po' Un problema Diciamo È un po' Un problema Però Pensate una cosa Se sono muto Sono muto E basta Invece se avessi Un braccio Amputato Potrei farmi montare Un bellissimo braccio Bionico Mamma mia Tutto robotizzato Che fa cose Molto sfini Quindi Preferirei Ovviamente Avere amputato Un braccio Anche se In effetti Potrebbe essere Un pochino Doloroso Quando viene amputato Ma Se sono sedato Non ci dovrebbe essere Nessun problema Tanto poi Avrei un super braccio Meccanico Tipo Ironman Madonna ragazzi Quindi preferisco Ovviamente Il braccio E non ho cliccato Perché sono stupido Allora Preferireste avere La pelle blu O la pelle rossa Mamma mia In realtà Se si fate caso I pelli rosse Esistono già Quindi non Dovrebbe essere Troppo difficile Però va bene Allora A me Non piacerebbe Avere la pelle blu Perché a me Non mi piace Il blu Quindi Sarebbe meglio A me piacerebbe Meglio il rosso Però Anche il blu Sarebbe bello Avere la pelle Blu Però Scelgo il rosso Perché mi piace Di più il rosso Mangeresti Solo salato Per il resto Della tua vita O mangeresti Frutta Per il resto Della tua vita Allora Il salato È salato Quindi tutte le cose Praticamente Col salato Tutte le cose Potreste mangiare Perché qualsiasi cosa È salata Punto uno Secondo Il frutti Io non sono Un grande mangiatore Di frutta Infatti la frutta Non mi piace troppo Però se c'è tipo La macedonia O lo yogurt Quelli Li mangio Volentieri Invece frutta Tipo Non so Prendere una mela Fare Così con la mela No Quello no Però Il salato Praticamente Come ho detto prima C'è tutto Quindi la pasta è salata Va bene L'insalata E salata Va bene Sì in realtà L'insalata E salata Suona un po' male Però va bene Patatine Sono salate E van bene Quindi direi Ovviamente il salato Cioè il salato Va bene con tutto Allora Se dovessi scegliere Diventeresti Un esploratore Della giungla D'Amazzonia Oppure Andresti In un sottomarino Nel fondo Degli oceani Allora La giungla È molto pericolosa Perché ci sono Tanti animali Tipo serpenti Tigri Qualcos'altro Tucani E invece Nel 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 fondo Del mare Sì Puoi vedere Tutti Puoi vedere Tutti i pesci Però non è così Io andrei Nella giungla Cioè Almeno Vedi più Animali Più Piante Sceglieresti Di bere E guidare Oppure fumare Volare Allora Bere e guidare Teoricamente Potresti già farlo Se poi arrivano Se poi ti vedono i vigili Però vabbè Teoricamente potresti farlo Se tu bevi una Pinozza di birra Così poi Metti a guidare Poi benissimo farlo Invece Se fumi Muori Invece Invece qua Dice se fumi Tu inizi a volare Quindi direi Probabilmente Che inizierei a volare Perché anche se fumare In effetti Non è una bella cosa Però vabbè No Qua non dice che devo farlo Per forza Se lo faccio Posso volare Quindi va bene Preferresti Che il tuo sangue Viene succhiato Da un vampiro Oppure Avere il cervello Mangiato da uno zombie Che bello Allora Se il tuo cervello Venisse mangiato Da uno zombie Moriresti Invece Se verresti Se il tuo sangue Verrebbe succhiato Da un vampiro Diventeresti Vampiro E quindi Saresti Immortale Diventi vecchio Però Non muore mai Quindi sceglierei Di essere Vampiro Di essere Che il mio sangue Verrebbe succhiato Da un vampiro Vorresti avere Una Una visione Raggi X Oppure una visione laser Allora La visione Raggi X Posso vedere Attraverso le cose Quindi c'è Un muro Io guardo Con la visione Raggi X Vedo cosa c'è Attraverso il muro Ok Se avessi invece La visione laser Potrei tipo fare Come Non lo so Tipo fare Ah Laserare tutto Non so C'è una persona Cattiva Che mi sta Tipo derubando Io posso accendere Il laser E la fulmina Però in realtà Non è così bello Perché Da quello che mi sto immaginando Il laser Non puoi controllarli Quindi se tipo Apro gli occhi Laserizzo tutti Invece La visione la GX Vedrei sempre Oltre le cose Che è un bene Ma è anche un male Perché se c'è una cosa Che mi vogliono tenere nascosto Per farmi tipo una sorpresa Io la saprei Perché entro Vedo la sorpresa Però Piuttosto che andare in giro A uccidere persone Per colpa del laser Preferirei la visione La GX Preferiresti Diventare ricco O diventare famosa Allora Io vorrei essere famoso Perché Essere ricchi Vabbè Sei ricco E Hai tanti soldi Vabbè Però Se te sei famoso Puoi vincere soldi Ti danno Soldi Perché sei famoso Quindi Ti danno molti soldi E quindi Vorrei essere famosa Per questo speciale È tutto Adesso passiamo La parola A Jurassic 410 Allora Prima di salutarvi Devo dirvi una cosa Proprio così veloce Vi ringrazio tantissimo Per i 64 iscritti Che ora non sono più 64 Perché sono di più Vi ringrazio tantissimo Cioè Non so cosa dire Grazie Cioè In realtà Non è un traguardo Proprio Così grande Perché 64 non è un numero grande Come se fosse Mille O diecimila O centomila Ma già 64 è qualcosa Qualcuno guarda i miei video Già questo è Qualcosa che mi fa andare avanti A fare video E non mollerò YouTube Come fanno molte persone Che mollano YouTube Spesso sì Ma io non lo farò E Se potessi Verrei lì Vi abbraccerai tutti Vi darei un abbraccio Vi direi grazie Grazie di cuore Comunque Per questo video è tutto Quindi da Jurassic 410 È tutto Anche se Non sono io Jurassic 410 Ma sono Sua sorella Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale E Ciao a tutti